Musica Vedetti riceve Marabini Gli sta attaccando Scatoli 24 Luca tira e segna da tre punti Musica Che poi scarica fuori E si vuole continuare a sfruttare il tempo Bello l'assist di rivali A livello di piedi Ed è lesso anche a ribalco qui Va in contropiede Poi decide di andare a schiacciare